Musica Cresce l'attesa a Reggio Calabria ed in tutta la regione per l'evento di domenica prossima 28 ottobre che può a buona ragione definirsi storico in quanto dopo oltre 30 anni arriva l'acqua nelle case dei cittadini di Reggio. Ciò è potuto avvenire grazie ad uno straordinario impegno del presidente della regione Mario Liverio. La regione ha infatti investito nell'operazione 25 milioni di euro rimettendo in sesto il cantiere per la costruzione del sistema idrico del Menta. Saranno ora chiusi i pozzi salmastri ed i cittadini di Reggio, la città più grande della Calabria, potranno bere acqua sana e priva di residui salini. Prevista come molto intensa la giornata di domenica 28 con quattro iniziative che anche con il coinvolgimento diretto dei cittadini di Reggio segneranno l'importanza dell'evento. Grande soddisfazione per la definitiva soluzione del grave problema idrico della città di Reggio Calabria è stata espressa dal presidente della regione Oliverio. Potrei dire che storico è una parola abusata, però mai come in questa occasione utilizzare questo termine è rispondente alla realtà perché purtroppo noi abbiamo una vicenda che è durata decenni, è stata ideata questa diga 50 anni fa, i lavori sono iniziati oltre 30 anni fa e nel 2015 quando mi sono insediato alla guida della regione la prima cosa che ho fatto è stata quella di recarmi sul cantiere e ho trovato un cantiere i cui lavori erano sospesi da 5 anni, dal 2010, opere lasciate nell'abbandono e danneggiate anche strumentazioni importanti e una condizione di assoluto degrado praticamente. La prima cosa che noi abbiamo fatto è stata quella di rimettere in campo un percorso concreto per la riapertura del cantiere, abbiamo investito 25 milioni di Euro per riprendere il cantiere, per completare le opere e per far sì che un investimento importante per la città di Reggio Calabria non andasse in fumo perché appunto il rischio che andasse in fumo questo investimento era lì a portata di mano chiaramente. Palazzo Tommaso Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, ospiterà lunedì prossimo 29 ottobre i presidenti dei consigli regionali di tutta Italia. Si terrà infatti a Reggio Calabria la sessione plenaria della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome guidata dalla coordinatrice Rosa D'Amelio Campania. È un momento di grande rilievo istituzionale per noi afferma il presidente dell'assemblea calabrese Nicola Irto. Siamo onorati di ospitare nella nostra sede i lavori della conferenza organismo che in questi anni ha consentito di rafforzare la rete di collaborazione tra le assemblee creando i presupposti per un maggiore riconoscimento del ruolo e del lavoro svolto dal nostro livello istituzionale. Il presidente della regione Calabria Mario Oliverio e l'assessore al lavoro Angela Robbi hanno incontrato nella città della regionale le segreterie regionali dei sindacati calabresi per affrontare alcuni nodi legati al documento economico finanziario del governo ed esprimere una valutazione di ordine generale assieme alle forze sociali su alcune questioni specifiche che riguardano l'attribuzione delle risorse nazionali utili a garantire la continuità del percorso di stabilizzazione dei lavoratori LSL più della Calabria e quelle per il fondo relativo al bacino dei lavoratori del comparto della forestazione regionale. Oliverio che pochi giorni addietro ha inviato una lettera ai ministri del lavoro di Maio per la pubblica amministrazione Buongiorno per gli affari regionali Stefani con cui chiedeva di non fare venire meno il fondo governativo di 50 milioni di euro che a partire dal 2015 è stato costituito nelle leggi finanziarie dello Stato e su cui la regione ha aggiunto quasi 38 milioni di risorse proprie per garantire l'occupazione dei lavoratori da assumere nel piano di stabilizzazione. Ha sottolineato ai sindacati impegno che fin dal suo insediamento ha profuso l'aggiunta nei confronti dell'abbattimento del precariato storico calabrese in particolare per la contraattualizzazione dei 4.554 LSL più che in Calabria svolgono un lavoro necessario a garantire i servizi fondamentali dei comuni e per le pubbliche amministrazioni. Il documento di economia e finanza varato dal governo Conte nonostante sia diretto a chiudere con le politiche di austerità imposte nel passato dall'Europa di fatto appare come una legge di bilancio in linea di continuità con le precedenti. Lo afferma in una nota il segretario generale della UIL Calabria Santo Biondo. Infatti rispetto agli anni scorsi prosegue questa manovra manca di una visione capace di costruire una strategia di rilancio organica e complessiva che comprenda il sistema paese nella sua interezza e soprattutto continua a perpetrare la logica da prima repubblica in base alla quale per far crescere l'Italia basta fare debito pubblico anziché intervenire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la crescita di competitività e di produttività. Con decreto del Presidente della Giunta Regione Calabria numero 117 del 23 ottobre 2018 è stato nominato commissario straordinario della Camera di Commercio di Catanzaro in sostituzione del dottor Giorgio Sganga, il dottor Giuseppe Franzè. Il provvedimento costituisce l'ultimo maldestro e giuridicamente insostenibile tentativo della Regione Calabria di rimettere mano sulla governance della Camera di Commercio di Catanzaro ed indirettamente sull'Unione regionale delle Camere della Calabria. E' quanto si legge in una nota diffusa dalla Camera di Commercio di Catanzaro, i cui vertici venerdì mattina hanno ottenuto una conferenza stampa. Ai nostri microfoni il Presidente della Camera Daniele Rossi ed il Segretario Generale Maurizio Ferrara. Presidente Rossi, una situazione abbastanza paradossale. E' paradossale, tutto il Consiglio è dispiaciuto, noi non abbiamo nulla contro il dottore Franzè, contro il dottore Sganga come professionisti, persone stimabilissime, ma per noi non esistono. Esiste solamente un Consiglio Camerale che è senzitato lì 28 novembre, un Consiglio Camerale che rappresenta tutto il territorio, rappresenta le categorie, che ha lavorato più di dieci mesi per il bene del territorio e lo continuerà a fare. A noi interessa il bene del territorio. Noi lavoriamo qua, distogliamo tempo alle nostre famiglie, al nostro lavoro, senza un compenso e senza un gettone di presenza. Lo facciamo davvero per spirito di servizio e quindi continueremo il nostro lavoro. Per noi è iniziato tutto quando si è insediato il Consiglio Camerale. Quali saranno i passaggi successivi a questo punto? Non c'è nessun passaggio. Noi continueremo il nostro lavoro. Ci sarà un giudice terzo a questo punto che deciderà. Sì, tra l'altro come un fulmine a ciel sereno, perché ormai sono 11 mesi che il Consiglio, l'Aggiunta e il Presidente svolgono regolarmente le loro attività, senza che sia mai stato messo in discussione nessun atto, mai impugnato né dalla regione né dal Ministero. Peraltro rafforzata dalla recente ordinanza del Consiglio di Stato, che annullando l'accorpamento di fatto sospende e quindi travalica anche la capziosa interpretazione che la regione intende dare a quel decreto, che noi non condividiamo comunque. Presidente Rossi diceva ai nostri microfoni, prima noi ci sentiamo legittimati dal momento in cui questo Consiglio ha iniziato a lavorare. Sì, assolutamente. Se noi a un certo punto abbiamo deciso di insediare il Consiglio a suo tempo, pur in presenza all'epoca di una posizione della regione che riteneva di legittimare sganga, e noi di questa posizione della regione non abbiamo tenuto conto, siamo andati davanti. Ora, il fatto che sia stato sostituito con un altro, o noi dovremmo avere qualcosa contro sganga, oppure non cambia niente, però non può cambiare niente. Ma la regione, come noi abbiamo fatto, ha tutti i titoli di rivolgersi per quello che gli compensa, ai tribunali amministrativi per ottenere soddisfazione. Quando ci sarà un organo amministrativo che ci imporrà, non ci metterà solo attenti perché siamo rispettosi di quelle che sono le tendenze. Altrimenti ci erogeremo un ruolo di depositorio. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Crucoli e di Casabona, entrambi in provincia di Crotone, per infiltrazioni mafiose. La proposta di scioglimento è stata avanzata dall'amministro dell'Interno Matteo Salvini dopo aver recepito la relazione del prefetto di Crotone, Cosima Di Stani, a conclusione del lavoro svolto per sei mesi dalle commissioni d'accesso insediatesi nei due comuni del Crotonese. Lavoro dal quale sono emerse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che espongono l'amministrazione a pressanti condizionamenti e ne compromettono il buon andamento, preciso una nota del Consiglio dei Ministri. L'ufficio di presidenza della conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'area dello stretto, guidata dal consigliere Domenico Battaglia, alla presenza anche di Elvira Amata, delegata del presidente dell'ARS, ha effettuato la presa d'atto del protocollo di intesa sottoscritto tra il comune di Messina ed il comune di Reggio Calabria, con riferimento all'istituzione del bacino dello stretto, nonché delle deliberazioni delle stesse città metropolitane. L'atto ha adottato, spiega Domenico Battaglia, si inserisce nel più ampio progetto che persegue l'obiettivo della conurbazione delle due città metropolitane e di una migliore mobilità fra le due esponde per scongiurare il rischio concreto che le stesse rimangano emarginate dal contesto nazionale. Si torna a parlare della superstrada San Roberto Campocalabro, un'opera importante, necessaria un'interlocuzione col governo innanzitutto. Sì, siamo oggi qui a rispondere a quello che è stato l'appello dei sindaci di questa vallata e quindi non solo per dire presente, ma ad accogliere questa istanza che arriva dai territori e per assumere ovviamente anche degli impegni, perché sarebbe stato semplice venire qui e dire che siamo d'accordo e che daremo il nostro supporto istituzionale senza assumere degli impegni. E quello che voglio fare è assumere degli impegni con i cittadini, con i sindaci, con gli amministratori di questa vallata, che noi ci saremo e ci saremo anche in sede di governo. Io già rispetto a questo mi sono un po' portato avanti con il lavoro, ho già parlato con il sottosegretario Sidi, il sottosegretario delle infrastrutture, chiedendo un incontro istituzionale assieme ai sindaci per porre all'attenzione del governo questa grande opera, questa grande infrastruttura che servirà a collegare il mare alla collina attraversando questi straordinari paesaggi che di certo darà un grande boccata d'ossigeno a queste contrade, a questi paesi, a questi quartieri anche della nostra città metropolitana. Oggi la città si riunisce, qui la cittadina, la vallata, per rivendicare un sacrosanto diritto che è quello della mobilità. Cosa serve per rilanciare questa infrastruttura? Serve una grande sinergia fra le istituzioni. Bene hanno fatto i sindaci a convocare questa assemblea. Si tratta di un'infrastruttura importante. Pare che ci sottopongano un progetto da 25 milioni di euro, quindi la regione proporrà al governo all'interno dei contratti con l'ANAS di prevedere questa opera fondamentale per collegare con la montagna questo pezzo di città metropolitana. La regione farà la sua parte e speriamo la faccia anche il governo. Due elementi importanti. Il primo è che siamo sostanzialmente all'anno zero perché la proposta progettuale è attualmente veramente in fase embrionale, anche nella definizione del tracciato delle risorse e quindi partiamo praticamente da zero. E questo secondo me non è una notizia estremamente positiva, ma una notizia invece oltremodo positiva è che c'è la disponibilità e il concorso dei vari soggetti deputati ad affrontare e a risolvere il problema quantomeno del reperimento delle risorse in questa fase. La regione è in prima linea impegnata in questo, dialogheremo chiaramente per la parte di nostra competenza sia con il Ministero per capire la disponibilità a intervenire nell'accordo di programma, anche con un'eventuale modifica dello stesso per poter utilizzare risorse già stanziate. Una potente scossa di terremoti di magnitudo 6.8 ha colpito la notte scorsa poco prima delle due del mattino, l'una in Italia, la costa occidentale del Peloponneso in Grecia, causando una grande paura, ma fortunatamente nessuna vittima e solo danni limitati. L'epicentro è stato localizzato nel Mar Ionio, a 38 chilometri dall'isola di Zante, ad una profondità di 14 chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente fino ad Atene, a circa 300 chilometri di distanza, oltre che in tutto il sud Italia, in Albania e a Malta. Cinque aziende di cui quattro società di capitali ed una ditta individuale, tutte con sede a Reggio Calabria ed operanti nei settori della vendita al minuto e all'ingrosso di prodotti alimentari ortofrutticoli, di giocattoli e casalinghi, nonché della ristorazione. Quattro supermercati di rilevanti dimensioni dei noti marchi Center Stock e Cash & Carry e magazzini per oltre 3.000 metri quadrati di estensione, nonché sette immobili aziendali e personali. Appartengono al patrimonio per un valore stimato di quasi 26 milioni di euro, confiscati dalla Direzione Investigativa Antimafia al noto imprenditore regino Michele Serra, di 51 anni, coinvolto e arrestato nel maggio 2016 nell'operazione Fata Morgana, in quanto accusato di essere, così come altri professionisti e imprenditori coinvolti nella stessa inchiesta con l'uso con l'andrangheta. A Serra, in particolare, fu contestata dagli inquirenti l'intestazione fittizia di beni, con l'aggravante di aver agevolato gli interessi nella grande e media distribuzione alimentare della Cosca Tegano, reato dal quale però nel marzo di quest'anno è stato assolto dal GUP di Reggio Calabria. Nel marzo dello scorso anno, invece, le indagini della Dia sul suo patrimonio avevano portato al sequestro di beni. La confisca di oggi è stata disposta, spiegano fonti investigative, per la pericolosità sociale qualificata e per la contiguità con soggetti di primissimo piano, sia dell'andrangheta regina nonché di quella generica. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale su proposta del direttore della Die sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia, diretta da Giovanni Bombardieri. I giudici hanno tenuto conto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Enrico De Rosa e della testimone di giustizia Brunella, la tela sulla stretta vicinanza di Serra con la cosca egemone nella zona sud de Regina, quella dell'Abbate. Inoltre, malgrado la recente assoluzione, i giudici hanno ritenuto che i dati emersi da quel procedimento siano ulteriormente emblematici per le caratteristiche dei fatti della personalità del Serra imprenditore e quale soggetto capace di muoversi con abilità e spregiudicatezza nell'ambito della dimensione affaristico-mafiosa. Oltre alla confisca, nei confronti di Serra è stata disposta anche la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora per la durata di tre anni. Promuovere la cultura della prevenzione in giovane età di un problema molto diffuso in tutto il paese, il consumo precoce di sostanze stupefacenti e di alcol. E' questo l'obiettivo di due progetti presentati dall'amministrazione comunale di Cosenza, in continuità con quanto già attuato lo scorso anno. Il comune vuole essere presente perché quando diciamo di essere comunità educante le parole devono avere poi un seguito concreto. Ecco perché oggi noi abbiamo chiamato tutti, abbiamo chiamato allora le associazioni che svilupperanno questi progetti. Uno è Teatro Innote, l'altro è un progetto dell'Associazione dei Pedagogisti Calabresi che aiuta il ragazzo ad esserci e non ad essere solo qualcuno che deve ascoltare. I due progetti sono volti a creare negli adolescenti, attraverso il teatro e attraverso entusiasmanti laboratori didattici, interessi diversi per impiegare il loro tempo libero in maniera efficace e costruttiva. Il tentativo è quello di farli riflettere su alcuni temi esistenziali a questi ragazzi attraverso l'arte, quindi il teatro, la scrittura creativa, la pittura, qualunque modalità espressiva con cui loro possono in qualche modo porsi domande e cercare delle possibili risposte. Quindi in questo modo il ragazzo non si sente sotto accusa, non si viene riconosciuto e identificato come colui che fa uso di sostanze o potenzialmente potrebbe fare uso di sostanze, ma invece come colui che si interroga e si pone delle domande rispetto ad alcuni aspetti della vita importantissime. Il nostro è un progetto sulla prevenzione delle addiction. Interveniamo attraverso dei laboratori, un laboratorio che serve per la realizzazione di un videodiario, quindi focalizzeremo questo laboratorio sulla self-efficacy, cioè la capacità di orientare i ragazzi verso uno scopo ben preciso, quindi la valorizzazione delle loro abilità emotive, comunicative, sociali e anche cognitive. Assessore, nuova tecnologia a disposizione della Polizia Municipale di Reggio Calabria? Cerchiamo di sopperire con la tecnologia quello che purtroppo è una pecca ed è la pecca dell'organico che non è idoneo a una città metropolitana come quella di Reggio Calabria. È un organico quello della Polizia Municipale ridotto all'osso che non ci permette di poter attuare quelle azioni di prevenzione e di programmazione che sono e che sarebbero necessarie e che vengono richieste dei cittadini. Perciò abbiamo attuato questo tipo di attività in sinergia con l'ATAM nella formazione di 36 ausiliari del traffico che possono regolamentare le soste sulle zone di pertinenza degli autobus, delle corsie preferenziali degli autobus e perciò che riguarda le soste nelle zone dove sono riservate alla sosta stessa degli autobus. Questo è stato fatto in sinergia con l'ATAM in un corso che è stato svolto nei mesi precedenti e da cui sono usciti 36 ausiliari del traffico che sono ormai individuati e che possono svolgere attività di contrasto e di prevenzione essendo forniti di blocchetto di contravenzione ed essendo Polizia Municipale vigili a tutti gli effetti. Inoltre a breve, cioè nell'ambito delle settimane entrante, entrerà lo scout che è praticamente un'apparecchiatura che viene montata sulla macchina della Polizia Municipale e fa le cosiddette soste a strascico fotografando le macchine in divieto di sosta che occupano il suolo pubblico in modo irregolare che sono nell'ambito di incroci sulle strisce pedonali o quant'altro che non è irregolare. Una manifestazione interamente dedicata ad uno dei simboli della cultura e della letteratura calabrese proprio nel giorno in cui è stata celebrata la giornata internazionale della letteratura. A Catanzaro si è svolta nell'auditorium Casali Nuovo la tredicesima edizione del premio Corrado Albaro dedicato allo scrittore di San Luca che ha portato il suo paese, la sua regione sempre nel suo cuore. Ai nostri microfoni il Presidente della Fondazione Corrado Albaro Aldo Maria Morace. Presidente Morace, è stata veramente una bellissima edizione, da San Luca il premio Corrado Albaro si è spostato almeno provvisoriamente per questa edizione, poi ci dirà meglio lei nel capologo di regione anche perché, l'abbiamo sempre detto durante le interviste in questi giorni, anche durante la presentazione Corrado Albaro è un simbolo, un'icona dell'intera Calabria. Sì, è un'icona e al tempo stesso non dobbiamo dimenticare che ha frequentato il liceo Gallupi e è partito culturalmente da Catanzaro, quindi ci sembrava giusto in occasione del sessagessimo della sua morte fare in modo che il premio per la prima volta uscisse da San Luca e si svolgesse qui a Catanzaro. Una data non casuale quella odierna in quanto è anche la giornata internazionale della narrativa, oggi, della letteratura. Esatto, sì, sì, io come segretario degli italianisti avevo proposto questa data in modo tale da far coincidere il premio con la giornata della letteratura e devo dire che è stata una manifestazione veramente coinvolgente, credo forse la migliore fra le 13 edizioni del premio. Sì, naturalmente è uno scrittore che ha sempre mantenuto fortissimo il legame con la sua terra pur poi vivendo altrove, uno scrittore che ha narrato la Calabria cogliendone gli aspetti reali, veri, autentici, però anche con uno sguardo intriso di speranza e capace di cogliere i segnali del cambiamento che pure c'erano e di segnalarli attraverso la sua scrittura. Sì, infatti il pubblico oggi presente è fatto soprattutto di studenti, è la prima volta che questo succede in 13 edizioni del premio Alvaro, finora le premiazioni erano avvenute a San Luca, quest'anno si è voluto proprio dare importanza, un'importanza ancora maggiore al premio. Sì, la mia opera è un intreccio tra la geografia della Calabria e la letteratura, naturalmente la geografia presentata dagli occhi di Corrado Alvaro, ma la mia tesi vuole appunto parlare di come il suo attaccamento comunque non condiziona quello che è poi la descrizione concreta e realistica della Calabria. A Cosenza il taglio del nastro ha aperto ufficialmente la sedicesima edizione della festa del cioccolato che ancora una volta ha come location ed eccezione l'isola pedonale. L'evento, oltre a celebrare le mille sfaccettature del cibo degli dei, esalterà anche tutti i prodotti calabresi che, combinati con il cioccolato, creeranno dolcissime suggestioni. Tante le novità di quest'anno, prima tra tutte il numero degli stand, oltre 50, in cui si respirano anche atmosfere internazionali. La sedicesima edizione abbiamo la partecipazione da più regioni d'Italia e anche qualcuno che viene al di fuori dall'Italia. Siamo felici anche per quest'anno di aver regalato alla città di Cosenza, ma non solo alla città di Cosenza, ma all'intera regione, un evento bello e soprattutto dolce. La novità più importante è la scuola di cioccolateria che i nostri maestri artigiani, capeggiati dalla nostra rappresentante Anna Garofalo, insieme all'associazione degli chef calabresi, terranno in questi giorni sia per i bambini delle scuole primarie e sia per tutti coloro che vorranno imparare come si fa la cioccolata. Questi eventi portano anche l'infa vitale all'economia perché molti tour operator si sono adoperati per organizzare dei viaggi ad hoc per venire a visitare questo weekend Cosenza in occasione della festa del cioccolato. La cosa importante è che il sindaco Mario Chiuto ha voluto di nuovo il corso per questo evento ormai atteso non solo dalla provincia ma anche dalla regione. inoltre abbiamo la partecipazione a questa festa di tutto quello che è il corso, infatti i commercianti hanno aderito prolungando l'orario di chiusura dei loro negozi. Serie B che torna in campo in questo fine settimana il Cosenza di Piero Braglia dopo la prima vittoria stagionale ottenuta ai danni del Foggia sabato scorso al San Vito Marulla per 2-0 con doppiette di Gennaro Tutino giocherà alla riga Monti di Brescia, gara in programma sabato pomeriggio alle ore 15. In posticipo invece il Cruttone di Stroppa che usufruirà del secondo turno interno consecutivo. Dopo aver piegato la resistenza del Padova la squadra rosso-blu ci riproverà con la Salernitana. Gara in programma all'uscita domenica alle ore 21. In Serie C sarà il Catanzaro ad aprire il nono turno trasferta degli uomini di Auteri al Vito Simone Veneziani di Monopoli. Gara in programma sabato alle ore 14.30. A seguire il Rende che sfiderà la Virtus Francavilla in terra pugliese mentre è notturna per Regine Vibonese. Gli Amaranto a Luigi Razza di Vibo Valenzio ospiteranno la Juve Stabbia del Regino Fabio Caserta mentre i rosso-blu di Nevi Orlandi saranno di scena alla Pinto di Caserta contro i Campani per allungare la striscia altamente positiva delle ultime settimane. In Serie D infine due trasferte di prestigio per Castro Villari e Locri, i rossoneri del Pollino, giocheranno sul campo della CR Messina mentre Bari Locri è diventato il match-clou di questa giornata di campionato. Infatti i pugliesi guidano la classifica con 14 punti seguiti proprio dai calabresi con 13. Derby calabrese al ninetto muscolo di Roccella Ionica tra il Roccella e la Palmese mentre la cittanovese dopo aver esagerato sul campo dell'Igea riceverà in Necasa i siciliani della Cireale.